Sotto la Francia, alla scuola della lingua del Verzet, come la chiamava il carro, porta il mercato della frutta e verdura, che era una guardia francese, sempre nell'Ottocento, che la si ferma davanti a una bancarella della frutta secca. L'ha vista in us, l'aveva mai vista, e gli dice, come sapere? E gli dice, come sapere? E gli dice, non sapere, no, si schisce. E la guardia, la capino, la fa come, e la fa con i ma, i pe, con i margai, come il guerlio, no? E la guardia, la continua a capino, e fa, io ne compro ancora, e la veda, non sapere, se il gammengavele comprate, la si sta, no? E l'ha rivolto a un altro cliente, e io lo sapevo fino a qui. La signora mi ha scritto una lettera, e mi ha dato il seguito, dice che lei la diceva sempre a suo padre, per esempio, beh, se il gammengavele comprate, la si sta. la guardia se ne andò e la vecchietta, rivolgendosi a un altro cliente dice anche se si capisce un no anche se compremmenga con i francesi si capisce le duma conti tutte si capisce una volta e questa è proprio una storia vera